Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto a ovest delle Oli e alle 11.55 a una profondità di 20 chilometri. Il sisma è stato localizzato dalla sala operativa INGVOE di Catania. La scossa è stata avvertita da turisti che in questo periodo affollano l'arcipelago siciliano ma non sono segnalati danni a persone e cose. La scossa è stata attraverta da turisti che in questo periodo affidavano l'arcipelago siciliano ma non sono segnalati da turisti che in questo periodo affidavano.